Back in ETV Ciao ragazzi, benvenuti a Balconi TV Roma, io sono Mika e oggi ci sono venuti a trovare i Molotoi Ciao ragazzi, bentrovati Ciao Che cosa ci regalate? Oggi facciamo Kaleidoscope, un pezzo che a noi piace molto, lo facciamo spesso dal vivo Ci piace giocare con le luci, quindi vedrete Sono già curiosissima Grande, grazie Va bene, poi ce lo spieghi Ok Grazie 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 un po' di elettronica, Balconi TV in Moloto, io sono felice di avervi ospitato ragazzi, e questo disco è freschissimo, il vostro secondo album The Most Intelligent Child uscito ad ottobre del 2016, da cui è tratto questo brano che avete seguito qua complimenti ancora, ci volete presentare tutta questa tecnologia che avete qua, magari la gente che non riesce a guardare cosa c'è e come come si svolgono le vostre performance al vivo, questo è uno strumento nuovissimo ah beh, certo, tecnologico il digitale proprio vai, no vabbè si, parla ciao niente, questo è un case che ho costruito io, modulare insieme a due amici miei, un fisico, un ingegnere di cui ho toccato le foto qui per ringraziarli sempre che avevamo problemi con la corrente quindi è sia analogico che digitale questa è una tastiera analogica scheda audio computer e l'iPad che riesce a pilotare le luci che abbiamo costruito noi grazie al nostro amico quindi è tutto senza fili tutto touch e questo è tutto tutto do it yourself sì perfetto e il disco è uscito per qualche etichetta o anche quello vi siete fatti tutto da solo? no no, l'etichetta Kibumi Records è l'etichetta del nostro manager quindi l'ha aperta e noi siamo la prima uscita che fa l'etichetta fantastico e c'è un tour di promozione di questo album? sì, partirà a gennaio abbiamo già alcune date soprattutto a Svizzera siamo contenti di suonare all'estero finalmente e poi Roma Milano qualcosa e dato che è tutto così analogico ma ci avete stampato anche un vinile? no? per caso? no no, quello costa troppo va bene, va bene lasciaci i contatti così che la gente può seguire sia il tour ma anche acquistare il disco non so se ci sono dei video ci sono due video su YouTube uno con Iris con una cantante con cui abbiamo collaborato Float e l'altro è Time un bel video penso, non so va bene li andremo a vedere e lasciaci tutto telefono no, no, no sto scherzando è tutto come sì ok come? come vi troviamo? ah, come ci trovano a noi? ah, certo noi siamo in Molotoy quindi Facebook slash Molotoy e basta poi da quello uno va su Twitter che non usiamo mai su altre cose Instagram e basta va bene ragazzi e ancora complimenti e grazie di essere stati i nostri ospiti lo so che è stato impegnativo montare tutto qua per una canzone però sono stata onorata e spero di vedervi presto per una full performance ok grazie loro in Molotoy questo è Balconi TV di Roma io non sono sempre mica questo è il terrazzo dello Yellow Bar e ringraziamo anche Contessa Rock Hair per i capelli grazie mille ciao